Buongiorno, buona domenica, benvenuti all'appuntamento con la prima diretta di informazione di news di Udinews TV, buongiorno Fiullico, la lettura dei giornali ma non solo daremo un'occhiata anche alle notizie dell'ultima ora dai siti web, dall'Italia, dal mondo e se ce ne saranno ovviamente anche dalla nostra regione, oggi è una giornata importante per quanto riguarda lo sport perché l'Udinese alle 18 di questa sera incrocerà il Guantoni alla Dacia Arena con il Bologna, una partita molto importante perché all'Udinese servono i punti per guadagnare la permanenza in Serie A, si è arrivati a questo punto come sapete dopo una parte di stagione, quella dalla seconda metà del girone di ritorno in cui i risultati sono venuti a mancare ma adesso è il momento davvero di stringere i denti, di serrare i pugni, portare a casa la salvezza con 25 mila spettatori che oggi saranno sugli spalti dello stadio di Udine, della nostra casa, la Dacia Arena un'occhiata al traffico, vediamo com'è la situazione con il sito di infotraffico di Autovie Venete come vedete non ci sono particolari criticità segnalate se non ovviamente, lo ripetiamo ogni volta i lavori che causano dei restringimenti sia al Bivio tra la A4, la A23 verso Trieste, verso Udine nel Bivio di Palmanova e poi sul tratto fra Latisana e Portogruaro dove si sta lavorando per costruire la terza corsia non ci sono altre segnalazioni da parte di Autovie Veneto, vediamo se la regia ci dà anche qualche primo spunto sulle condizioni meteo, la giornata di oggi sembra essere una giornata serena andiamo a vedere com'è la situazione in questo momento c'è qualche gocciolinea che compare però sui monti della Carnia mentre per quanto riguarda la zona di Udine vedete c'è qualche nuvoletta sul sole il che lascia presagire ad una giornata comunque variabile ma che non dovrebbe dare problematiche dal punto di vista meteo e questo riguarda anche la partita che si giocherà come dicevamo agli ore 18 e noi dalle 17 saremo collegati in diretta dalla Dacia Arena per il pre-partita per seguire poi la gara in tempo reale e al termine per le interviste e questa sera vi proporremo anche in telecronaca riferita la splendida gara di ieri sera al Carnera tra la GSA Udine e Casal Monferrato Novi più Monferrato che ha visto la GSA battere i piemontesi dopo un tempo supplementare davanti ad un pubblico davvero eccitato possiamo tranquillamente dirlo perché il Carnera era tutto esaurito per l'ennesima volta c'è stato grande entusiasmo, una grande vittoria che porta Udine sul 2-1-1-2 per meglio dire perché siamo ancora in svantaggio di un punto in questa gara che si svolge nei play-off al meglio delle cinque partite dunque è necessario vincere almeno un'altra una per andare alla bella che si giocherebbe in casa di Casal Monferrato ma un passo alla volta, vinta la prima speriamo adesso che lunedì sera gli uomini di Coach Lardo possano mettere a segno anche il secondo punto dette queste prime notizie di giornata andiamo subito a leggere i giornali ovviamente per quanto riguarda i giornali nazionali la formazione, il tentativo di formazione di questo governo tra Lega e Movimento 5 Stelle che va avanti occupa la maggior parte dello spazio ormai ci siamo, dovrebbe essere comunicato il nome del candidato premier su accordo di entrambe le parti il candidato premier da portare al Quininale come nome e quindi Mattarella poi potrà assegnare l'incarico e nei prossimi giorni vedremo cosa succederà potrebbe davvero nascere questo governo andiamo subito a leggere le prime pagine partiamo dalla Repubblica molto spazio oggi anche al matrimonio reale che abbiamo visto ieri in televisione 2 miliardi la stima degli spettatori che hanno seguito in diretta tv questo evento ma concentriamoci sulla politica del nostro paese gli italiani che ha vinto governi PD diviso Martina trova spazio quindi Martina va avanti come reggente fino a quando non ci sarà il congresso e l'elezione del nuovo segretario sondaggio fiducia a Lega e Movimento 5 Stelle ma l'intesa sul premier torna lontana Di Maio chiude sulla tavola definita inutile ha fatto una piccola marcia indietro dunque si va avanti tra marcia avanti e marcia indietro di continuo vedremo cosa succederà il paese attende fiducioso di poter avere un governo libero asso nella manica di Mattarella la palla passa al Presidente della Repubblica secondo il quotidiano libero se domani Salvini e Di Maio proporranno al colle come previo era un nome sgradito i giochi si riaprirebbero i due leader si sono fatti molti nemici un veto del Presidente potrebbe dare l'avvio ad un'altra maggioranza quindi la possibilità di avere un altro tentativo l'ennesimo di formare una maggioranza diversa da quella che sembra la più scontata la più ovvia anche quella che ha maggiori possibilità di leggere 3 Lega e Movimento 5 Stelle non è da scartare la telenovela del governo questo l'occhiello in prima pagina sul titolo di apertura a nove colonne del quotidiano libero quotidiano diretto da Vittorio Feltri e qui vediamo una bella foto approfittiamo per parlare anche del matrimonio tra Harry e Meghan perché ha annoiato il matrimonio di Harry e Meghan queste nozze piacciono solo alla gente che non ci piace e qui c'è una critica da parte di Libero all'evento il matrimonio evento che si è tenuto ieri a Londra Premier nessuno e qui siamo sul giornale al via il governo da scherzi a parte Di Maio non molla ma a Palazzo Chigi salirà un nome di basso profilo dovrà fare il cameriere di Lega e 5 Stelle e dunque si va verso un governo con un Premier di scarsa autorevolezza secondo quello che sostiene il giornale staremo a vedere se sarà proprio così e soprattutto se Mattarella eccetera una eventuale nomina a lui non gradita dal punto di vista del profilo politico del profilo personale della persona che verrà indicata da Di Maio e Salvini per ricoprire il ruolo di Premier del nostro paese il Fatto Quotidiano si parla di rush finale tra Di Maio e i tecnici terzi per la nomina del Premier dopo i gazebo domani si va da Mattarella il leader di 5 Stelle e quello della Lega continuano a inviare ai media possibili identikit del loro primo ministro ma se il Presidente non gradirà figure sbiadite potrebbe toccare al capo politico del Movimento 5 Stelle quindi vediamo insomma ci sono tantissime ipotesi che vengono messe sul tappeto per quanto riguarda la nomina del Premier certo è un nome dovrà essere fatto poi spetterà a Mattarella il compito lo conferisce alla Costituzione di dare o meno il mandato al personaggio che verrà individuato da Lega e 5 Stelle che verrà comunicato al capo dello Stato staremo a vedere ma la situazione è davvero ancora in alto male andiamo sul manifesto ultimo duello su Palazzo Chigi domani Salvini e Di Maio al Quirinale domani dunque la giornata decisiva e poi qui utilizzando il titolo di un film a cartoni animati molto amato degli anni scorsi dai bambini e non solo dai bambini il titolo è Frozen cioè congelati sono congelati e qui siamo alla situazione del partito democratico ed è tutto congelato alla fine di una giornata segnata da fischi insulti e minacce l'assemblea nazionale del PD si chiude con l'ennesima finta tregua tra le correnti Renzi detta la linea e se ne va nessuna data per il congresso minoranze divise il reggente Martina resta nel freezer ed eccolo qua insieme ad altri illustri colleghi di partito frozen la situazione del partito democratico andiamo sul Corriere della Sera dove si parla della scure di Movimento 5 Stelle su Tav e Ilva che sono due argomenti invece cari al centro-destra in particolare alla Lega Nord quindi ai gazeboleghisti i dubbi sul reddito di cittadinanza il movimento presto i nomi del futuro governo di Maglio la Torino-Lione non serve Forza Italia Follia Salvini seguire il programma programma che è stato anche portato messo nero su bianco il programma congiunto intendiamo quello dell'ipotetico governo tra Movimento 5 Stelle e Lega è stato inserito in un contratto firmato e questo contratto dunque sarà vincolante per mantenere la maggioranza se si dovesse davvero riuscire a trovare un'intesa sul nome se Mattarella dovesse davvero dare l'incadico al nome scelto dal 5 Stelle e dalla Lega di Salvini il contratto sarà vincolante vedremo cosa succederà e come vedete però dopo aver firmato il contratto già cominciano le prime marce indietro davanti ai propri lettori per quanto riguarda soprattutto Di Maglio e 5 Stelle sulla questione della Tav e sull'Ilva la questione delle acciaierie dell'Ilva andiamo avanti e chiudiamo con la verità prima di passare anche al sole 24 ore dove si parla di argomenti strettamente economici la verità titola il piano per far fuori il governo Lega 5 Stelle ore decisive su Premier e Ministri Mattarella porrà condizioni per mettere in difficoltà Salvini se salta tutto pronto l'esecutivo neutro e il Colle spingerà perché il Cav spacchi il carroccio dunque secondo la verità il Colle cioè il Quirinale cioè Mattarella potrebbe anche effettuare delle manovre politiche vere e proprie per provare a sfaldare il carroccio cioè la Lega attraverso l'intervento del Cavaliere il Cavaliere è ovviamente Silvio Berlusconi che come sapete di recente è stato riabilitato può candidarsi eventualmente ad una prossima futura che non sembra poi tanto lontana tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento che è stato appena rinnovato ma che non riesce ad entrare nel pieno delle proprie funzioni ad assumere il pieno delle proprie funzioni visto che non c'è un governo visto che non si riesce a fare assolutamente nulla in questa situazione per quanto riguarda invece il Partito Democratico passiamo dal Frozen del manifesto alla resa dei conti nel PD che finisce a Tarallucci e Fischi e qui vedete Renzi che come avete letto anche sull'altro giornale è andato via quindi c'è una situazione davvero di rottura che sembra insanabile all'interno del Partito Democratico che va avanti con il reggente Martina fino a quando non ci sarà come dicevamo il congresso il sole 24 ore il quotidiano economico finanziario il maggior quotidiano economico finanziario del nostro paese parla di class action tornano la class action nell'Italia dei tribunalini Di Maio insiste e qui si parla anche della politica Di Maio insiste dice t'ha avvinutile domani il vertice da Mattarella il l'accordo il contratto tra leghe e movimento 5 stelle come vedete parla di alcune cose sulle quali però ancora ancora si sta discutendo il contratto intanto è stato firmato questo il titolo e l'argomento scelto dal sole 24 ore per la sua apertura di oggi e per quanto riguarda i quotidiani nazionali abbiamo chiuso il giro la panoramica sul nostro touch dunque possiamo passare invece alle cose di casa nostra agli argomenti dei giornali che ci riguardano da vicino cioè messaggero gazzettino poi vedremo anche la prima del piccolo via via web cominciamo con il messaggero veneto giornale del friuri e cioè l'edizione della città di udine dove si parla di pensioni 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 più aumenti che ai lavoratori gli effetti di crisi e provvedimenti governativi calano i contribuenti sotto la testata invece si parla ancora e se ne parlerà ancora tanto del risparmio tradito e cioè del crack delle banche venete la procura l'ex presidente della popolare di vicenza cioè Zonin che vedete qui in foto ed altri sei vanno processati poi per rimanere visto che abbiamo parlato di Zonin anche se non c'entra nulla con il vino in questo caso Zonin ma con i pasticci combinati con la banca popolare di Vicenza nel vino invece si parla di delizia che strappa l'enologo alla cabolani di Zonin quindi il mondo vinicolo che per quanto riguarda la delizia che è una cantina nota di casarsa strappa l'enologo alla cabolani di Zonin Zonin da quest'altra parte è affaccendato in altre situazioni molto meno piacevoli cioè deve vedersela con la magistratura con il giudice con la procura che chiede che Zonin venga processato insieme ad altri sei per il crack della banca popolare di Vicenza in centro pagina la fotonotizia con lo Zoncolan le pareti dello Zoncolan in cima che diventano uno stadio naturale per l'arrivo della tappa del Giro d'Italia una tappa dominata da Froome e qui vedete quanta gente che ieri fin dalle prime ore del mattino si è sistemata sulla cima dello Zoncolan molti l'hanno raggiunta in bici proprio per provare l'ebbrezza di coprire un tratto così prestigioso così duro per tutti i ciclisti per quelli professionisti a maggior ragione per quelli che vanno in bici per star bene per far sport e non certo per professione come i campioni della carovana rosa un po' di cronaca qui di spalla d'arta terme schianto con la moto ricorderete nei giorni scorsi la maestra purtroppo non ce l'ha fatta Tiziana Marra a un giorno dal grave incidente nel quale è rimasta ferita a Cavazzo Carnico ieri purtroppo non ce l'ha fatta ed è deceduta Pentecoste a Lignano passeggia sul cemento fresco e dovrà pagare i danni tutto sommato ieri abbiamo anche visto alcuni servizi realizzati dalla nostra redazione con testimonianze da Lignano nella prima notte non ci sono stati particolari problemi per la presenza di giovani austriaci a Lignano per festeggiare la Pentecoste speriamo davvero che si possa parlare in questi termini anche nella giornata di oggi e in quelle successive quando si farà un bilancio della Pentecoste a Lignano che è sempre un momento atteso con tantissima apprezzione a Dudine si fa un primo bilancio degli accessi nelle aree ZTL e per il momento non si registra nessuna multa quindi a quanto pare gli automobilisti udinesi sono stati finora disciplinati e cioè quelli che avevano il permesso l'ok per poter attraversare il barco della ZTL nei vari punti della città in cui sono sistemati queste telecamere che individuano le targhe in tempo reale possono individuare i trasgressori e dunque tutto bene per il momento per quanto riguarda invece c'è la politica andiamo a sinistra dove c'è un'intervista all'assessore definito visitor alla fine ho accettato per amore del Friuli la nuova giunta del Friuli Venezia Giulia che è stata formata dal presidente Massimiliano Federiga alle congratulazioni preferisce gli auguri perché da dirigente pubblico ed ex amministratore provinciale sa bene quali siano oggi i rischi e i vincoli di chi fa politica Tiziana Gibelli assessore regionale a sorpresa voluta da Forza Italia per le deleghe culture e sport sembra una donna pragmatica scrive Martina Miglia sulla prima pagina del messaggero nell'articolo che poi si sviluppa all'interno c'è anche lo sport ma prima dello sport ancora qualcosa di politica dopo la delusione Forza Italia riparte con Fedriga dopo la delusione per alcune scelte non condivise nella formazione della giunta che poi Fedriga ha formato ha dato i nomi sono dieci gli assessori regionali si parla qui invece di sport con l'operazione salvezza l'ora del giudizio per l'udinese mentre per quanto riguarda il basket la GSI ancora viva Casale K.O. al Carnere è stata una partita al cardiopalma con il pubblico che ha spinto la squadra di Lardo al successo prima a supplementare e poi al successo finale che ha permesso di portarsi sul 2-1 con il vantaggio di Casale nel computo generale della serie ma con ancora una partita da giocare al Carnera e un'eventuale bella da giocare in Piemonte si parla del Festival Noir che è in corso a Lignano a Lignano le 100 sfumature del giallo e qui parliamo dunque di eventi di cultura ce ne sono tanti in questo periodo una regione che propone sotto questo profilo tanti tanti eventi e poi invece la storia interessante e curiosa di una nonnina che insegna a giocare con niente considerate che oggi i nostri figli i ragazzi giovani hanno tanto con cui giocare dallo smartphone sempre in mano fino agli altri aggeggi tecnologici e questa nonnina invece insegna a giocare a divertirsi con niente come succedeva tanti anni fa come accadeva tanti anni fa e qui invece c'è una riflessione di Enrico Galiano sul caso di cronaca avrete sicuramente letto sentito ascoltato visto in tv o ascoltato alla radio del caso del papà che ha dimenticato in provincia di Pisa la figlia di un anno all'interno della macchina doveva andare a lavorare doveva lasciarla all'asilo nido invece purtroppo l'ha dimenticata in auto è andato a lavorare la sera è tornato in auto e ha trovato la figlia senza vita purtroppo e la riflessione di Enrico Galiano è questa niente insulti a quel padre perché sui social si è scatenata ovviamente la ridda di insulti definito in tutti i modi questo ingegnere che lavora in una azienda di Pisa quindi in Toscana e che ha dimenticato ricordiamo la bambina in auto provocandone purtroppo il decesso non è il primo caso e tanti insulti a quel padre Enrico Galiano invita ad una riflessione a tutti i genitori chiedendo a tutti di farsi un esame della coscienza e di chiedersi se non si è mai sbagliato e in questo caso chiaramente il errore è stato fatale se volete leggete molto interessante a pagina 11 oggi del messaggero questa riflessione pubblicata sul caso di cronaca che ha scosso un po' tutti il messaggero si occupa ovviamente di politica come abbiamo visto nelle prime pagine interne con tante notizie che arrivano sia dal fronte nazionale che regionale però il primo piano di oggi è dedicato invece ai dati che arrivano sui redditi un'indagine dell'IRES che parla di redditi dei pensionati che sono cresciuti il triplo rispetto a quello dei dipendenti e si parla ovviamente del Friuli Venezia Giulia grazie all'indicizzazione al tasso di inflazione e ad altre misure le paghe intaccate dalla crisi e dagli ammortizzatori sociali quindi le pensioni agganciate all'indicizzazione al tasso di inflazione ad altre misure hanno avuto una crescita più del doppio il triplo addirittura rispetto ai redditi dei lavoratori quindi alla cosiddetta IRPEF che è poi la tassa che viene pagata sui redditi poi si parla di stangata delle tariffe dai certificati fino alla mensa lievitate tre volte il caro vita dal 2015 gli attestati di nascita e matrimonio addirittura sono aumentati dell'88% poi ci sono alcune curiosità per quanto riguardano l'otto per mille l'otto per mille che è la parte di IRPEF che può essere destinata a qualsiasi a qualsiasi ente a qualsiasi iniziativa che sia riconosciuta e che possa dunque ricevere queste donazioni sono in cado le donazioni alla chiesa cattolica mentre c'è un boom per i valdesi andiamo a leggere qui la chiesa cattolica nel 2008 aveva totalizzato 315.596 euro dal 5 per mille nel 2017 è scesa al 296.000 euro quindi nulla di particolare siamo comunque su cifre importanti per quanto riguarda il 5 per mille destinato alla chiesa cattolica la chiesa valdese come vedete è della unione delle chiese metodiste valdesi passa da 6.000 euro a 14.502 si parla di boom ma ovviamente come vedete la differenza fra le donazioni alla chiesa evangelica valdese e la chiesa cattolica sono abbastanza la differenza è considerevole poi i buddisti sono passati da 0 nel 2008 a 2949 euro nel 2017 via via tutte le altre tutte le altre chiese quindi la parte che riguarda la la cessione del 5 per mille alle confessioni religiose nel totale ha portato nelle casse delle varie confessioni religiose in Friuli Venezia Giula 395.320 euro rispetto ai 368.217 del 2008 dunque c'è comunque un saldo positivo generale poi invece si parla degli sponsor il 2 per mille nella gara degli sponsor PD ampiamente primo Lega e Fratelli d'Italia in recupero ripartizione del gettito derivante dal 2 per mille dell'IRPEF destinato ai partiti politici PD 13.818 euro con un valore in percentuale del 40,4% sul totale via via tutte le altre con la Lega Nord che comunque se la cava discretamente con il suo 22,2% sul totale e 7.590 euro di contribuzione passaggio veloce sulla politica nazionale all'interno del messaggero veneto vedete qui le due pagine dedicate alla situazione dell'attualità Salvini e Di Maio atto finale al colle patti rispettati o salta tutto dice il premier dice il chiedo scusa il candidato il leader leghista domani il nome del premier il capo dei 5 stelle però torna indietro sulla tab e la definisce inutile sono scaramucce che a mio avviso potrebbero anche essere state già concordate a tavolino per mantenere un certo profilo nei confronti dei propri elettori mi riferisco al caso della tab i 5 stelle hanno messo insieme alla Lega su carta su contratto questo programma che dovrà regolare la condotta del governo se dovesse davvero nascere un governo tra 5 stelle e Lega però magari tra i due leader Di Maio e Salvini c'è un accordo per dire ok però ai nostri elettori diciamo che comunque la tab non ci interessa oppure che per quanto riguarda la Lega su altri punti siamo ancora in discussione mentre tutto questo come detto per mantenere alto l'onore di fronte a chi li ha votati e chi li ha portati in Parlamento e chi li ha messi nella condizione oggi di poter esprimere un governo ma staremo a vedere il messaggero si occupa anche del matrimonio tra Harry e Megan sposi la nuova favola e realtà e qui vediamo un servizio una pagina intera dedicata a questo evento con alcune fotografie con la foto del bacio tra i due novelli sposi andiamo a vedere un po' di cronaca della città di Udine andiamo nel fascicolo della città di Udine che si occupa in apertura del centro storico gli ingressi registrati nei primi giorni di aprile per quanto riguarda la ZTL guardate è qui 215 il 7 aprile 2018 queste sono le segnalazioni 4, 5, 6 e 7 più o meno stabili 5 e 6 cifre più o meno simili 1575 1572 il 4 aprile 1348 il 7 aprile 215 ancora nessuna multa le telecamere funzionano ma dopo un mese e mezzo ci sono problemi nella gestione dei controlli elettronici dunque potrebbero non essere stati come con troppo entusiasmo forse ho commentato all'inizio gli automobilisti disciplinati quando è piuttosto il sistema che non funziona ad evitare le multe nei primi giorni non erano state registrate nemmeno le targhe di autobus e taxi con alcuni tipi di furgoni sono emersi alcune difficoltà nella identificazione sono tutti passaggi step che verranno ovviamente affinati per un controllo elettronico che comunque può dare i suoi frutti quantomeno in questa fase come deterrente si ha paura di infrangere il divieto di entrare nella ZTL se non si è sicuri che ci si possa entrare andiamo a leggere l'edizione di Pordenone del messaggero Veneto la prima pagina con il titolo di apertura che è uguale ed è quello sui pensionati e sui redditi diversi con i lavoratori lo spettacolo dello Zoncolan anche qui in prima pagina vediamo la cronaca dove abbiamo invece notizie diverse rispetto alla pagina di Udine si parla di un bando andato a vuoto l'ufficio scolastico resta senza dirigente e si tratta dell'ex provveditorato di Pordenone poi a Fontana Fredda si scontra con un'auto motociclista rimane ferito a Prata di Pordenone alluvione simulata il comune cerca figuranti per questa operazione questa simulazione importante sul fronte della sicurezza per il resto invece c'è la prima pagina è identica a quella di Udine possiamo dunque abbandonarla per andare a vedere il gazzettino dove in apertura c'è il titolo sulla questione nazionale del governo e sulla tab si parla già di strappo Salvini Di Maio i 5 stelle diremo ai francesi che non serve il capo della Lega dice rispettate i patti o salta tutto duello anche sulla premiership i grillini Luigi a Palazzo Chigi il no del carroccio i grillini vorrebbero Di Maio a Palazzo Chigi qui invece vedete l'incidente che si è verificato nella notte tra l'altro ieri e ieri la mattina di ieri alle 3 e 30 del mattino una trappola sulla A4 aspettando la terza corsia l'emergenza è scattata per un bus di Flixbus che si è adagiato su un lato si è cappotato ed è finito fuori strada come vedete nella foto causando il ferimento di 26 persone tra cui uno in condizioni gravi è stabile ma è in condizioni gravi il ferito estratto dal bus grazie all'intervento poi dei soccorritori qui siamo sulla pagina dedicata al Friuli l'apertura parla della grande festa del Giro i 200.000 sulle strade del Giro e la stima di quanti hanno seguito la tappa che ha portato i corridori in vetta allo Zoncolan che è la salita più dura d'Europa e poi dall'inizio ritornanti all'arrivo 100.000 appassionati la partenza a San Vito erano in 25.000 si parla di un successo senza precedenti e qui il successo invece serve all'Udinese che oggi sarà spinta da 25.000 spettatori Udinese stagione in 90 minuti ma ne parleremo nel dettaglio nella pagina dello Sport di fatto all'interno dell'inserto del Friuli le prime pagine del del Gazzettino sono dedicate al Giro d'Italia alla grande festa che si è registrata sulle strade della nostra regione e non poteva che essere così oggi si parla invece oggi ci sarà un'altra tappa che riguarderà la nostra regione perché si parte da Tolmezzo e si arriva a Sappada fino a qualche mese fa si sarebbe parlato di una tappa di raccordo tra Friuli e Veneto e invece come sapete Sappada è passata al Friuli Venezia Giulia e dunque è una tappa della nostra regione a tutti gli effetti due tappe che hanno interessato interamente il territorio del Friuli Venezia Giulia con un enorme successo ieri e siamo sicuri un altrettanto enorme successo che si registerà quest'oggi andiamo adesso a chiudere la parte relativa alla rassegna di cronaca e di attualità ci fermiamo un attimo un breve break e poi riprenderemo parlando di sport e dunque ci concentreremo sulla partita di oggi tra Udinese e Bologna daremo un'occhiata anche ovviamente a quello che è successo ieri al Carnera con la GSA che ha battuto Casal Monferrato e trascina quindi Piemontese la quarta partita ancora al Carnera lunedì sera a tra poco grazie a tutti